Più di un miliardo di persone hanno viaggiato in tutto il mondo, in aumento, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, del 5% rispetto all'anno precedente. A gennaio, mese tradizionalmente poco attivo per i tour operator, si fa il bilancio dell'anno passato e del lungo ponte natalizio chiuso da poco. E se anche l'Europa può vantare un bilancio positivo, con arrivi in aumento del 5%, l'Italia resta tristemente indietro. Secondo i dati di Federalberghi, nel 2013 il settore ha perso il 4% di occupati, 10.000 posti di lavoro persi solo tra gli alberghi, 40.000 in meno in tutto il settore. Il bilancio è appena in pareggio, più 0,27% di presenza alberghiere in Italia, merito soprattutto degli arrivi da oltre confine. Nel 2013 negli hotel si è registrato un calo del 2,9% dei pernottamenti, mentre sono aumentati quelli degli stranieri di quasi il 4%. Eppure chi sceglie di raggiungere l'Italia per le proprie vacanze è sempre meno agevolato dai trasporti. Noi soffriamo di avere un vettore di bandiera debole sull'erotto intercontinentale, quindi con pochi aerei, con pochi collegamenti, mentre altri paesi hanno una copertura molto più ampia. Questo vuol dire che il turista non europeo che viene in Europa e vuol visitare l'Italia in gran parte deve fare delle tappe intermedie, quindi prima arriva a Parigi o ad Amsterdam o a Francoforte, poi se vuole può proseguire anche per l'Italia. Ma è chiaro che prima visiterà quei paesi. Sempre meno tedeschi e più prenotazioni dall'est europeo. In Italia sta cambiando la provenienza dei turisti stranieri. Intanto la crisi economica pesa sulle tasche di casa nostra. Gli italiani possono sostenere ben pochi viaggi. Per le vacanze natalizie 32 milioni di italiani hanno dichiarato di non potersi permettere una notte fuori casa. I prezzi sono diminuiti ma evidentemente l'offerta turistica del bel paese non riesce ad attrarre ancora abbastanza. Promozione per farli arrivare, riqualificazione dell'offerta per farvi stare sempre meglio. Se pensiamo che una gran parte del mercato oggi si svolge su internet e consideriamo che ci sono località turistiche italiane ancora prive della DSL, comprendiamo bene come molto spesso le nostre imprese competono in una corsa handicap. Le mete più gettonate a livello globale sono il sud-est asiatico, l'Europa centrale e dell'est, il Mediterraneo e il Nord Africa. L'Italia sembra non riuscire a promuovere se stessa. L'immagine dell'Italia negli ultimi 15-20 anni si è parecchio deteriorata per ragioni che non sono turistiche e quindi un miglioramento dell'immagine dell'Italia in generale sarebbe anche un miglioramento dell'immagine turistica dell'Italia. Eppure resta al nostro paese il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, 49 su 981 in tutto il mondo. Le prime opere a essere scelte sono state le pitture rupestri della Val Camonica nel 1979, le ultime lo scorso anno, le ville Medice in Toscana. Grazie per la visione!